Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Allora, in questo video vorrei vedere come preparare il tiramisù ma usando la crema pasticcera in realtà quindi un tiramisù un po' diverso dal solito e adesso vi farò vedere quello che abbiamo bisogno è appunto la crema pasticcera cacao in polvere, caffè e ovviamente i biscotti la prima cosa che andiamo a fare è mettere un po' di crema pasticcera diciamo come fondo, diciamo così giusto per bagnare il segame poi prendiamo i biscotti in questo modo, li bagniamo nel caffè e li andiamo a posizionare adesso con la crema pasticcera andiamo a ricoprire il frutto e per finire prendiamo il cacao e lo mettiamo sopra il nostro tiramisù in questo modo questo ragazzi è un tipo di tiramisù che si mette nel congelatore e ti mangio congelato come se fosse una torta congelata se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale